Guarda che non dovresti lasciare che Ramiro si comporti così con te, ma che dici? Sì, che ti tocca, non importa che sia il tuo capo, non dovresti lasciarlo fare, devi troncare subito. Ma sei pazzo? Lei è così, lui è così, va al simpatico, delle battute, ma mi rispetta e mi stima. Buongiorno Leila. Ciao Silvi, come va? Bene, bene, come va Ramiro? Bene, molto bene la pratica, lavori sempre molto bene, sempre meglio. Come le tue rettine. Simpatico, eh? Molto simpatico. Sto morendo del ridere, sto facendo le cabriole per terra dalle risate. Cavolo, se non mi chiedete quello che voglio, sicuramente prendermi cura di me stessa, mangiare sano, avere una vita sana, stare bene. Tutto per me stessa, per l'estate, comunque per me stessa, per esempio, voglio togliermi questa parte piccolina qua. Sai, quella di cui parlano tutte le donne, capisci? Sano. Vomitare è sanissimo, te lo chiede il corpo. Sei pronta? Sì, sì, aspetta che mi metto l'orologio. Grazie. Grazie.